Questa mattina a Marano di Napoli, carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale Partenopeo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di tre indagati, due in carcere e uno negli arresti domiciliari, ritenuti gravemente indiziate di trasferimento fraudolento di beni, aggravato dal metodo mafioso. Le indagini condotte dal nucleo investigativo di Napoli coordinate dalla DDA hanno consentito di sequestrare preventivamente nel quartiere cittadino di Montesanto un cantiere dire relativo a un complesso immobiliare su due livelli, esteso su superficie di 800 metri quadrati, costituito da 12 mini appartamenti in assenza di autorizzazione sismica e in difformità al progetto presentato, per un valore di circa 3 milioni di euro. Inoltre nel corso delle investigazioni sono stati raccolti gravi indizi in ordine alla riconducibilità di fatto di una società intestata ad un prestanome ed impegnata nella ristrutturazione della citata struttura a due soggetti considerati espressione imprenditoriale del clan Polverino Nuvoletta, operante a Marano di Napoli. Le indagini hanno permesso altresì di riscontrare che la citata impresa, negli anni 2018-2019, aveva avuto in vari quartieri cittadini commesse per lavori per oltre 400 mila euro. La società è stata sottoposta a sequestro preventivo con l'intero assetto patrimoniale per un valore complessivo di oltre 100 mila euro.